Ciao, benvenuti sul mio canale YouTube. Io sono Lodo, ma gli amici mi chiamano... Lodo Vika Comello! Lodo Vika Comello! Lodo Vika Comello! A me piace Harry Potter, il tè, disegnare, Frida Kahlo e disegnare Frida Kahlo. Cosa non mi piace... Ah, non c'è tempo? Nella vita faccio... Benvenuti a Singing in the Car, il programma dove si canta come si fa generalmente sotto la doccia. Oh! Tieniti pronto, sarà fenomenale. Italia sgostale, arriva alla finale. Bonjour, sono a Radio 105, tra pochissimo sarò in diretta. Ciao, sono Lodo Vika e vi voglio raccontare una storia. Ognuno con i soldi non ci potrei mai stare. I classici cafoni. Quello che parcheggia in seconda fila. E' Carla! Mi prenderà... Solo un po' di te... Un istante di complicità... Un deserto di felicità... Che passerà... Lascerà la polvere E anche se vuoi darmi il cielo Non mi basta Ma c'è molto, molto, molto di più! Cliccate su Subscribe e tornate a trovarmi! Ciao!